Puntare sull'enoturismo in Umbria nel dopoterremoto per dare una mano anche all'export, a sostenerlo il movimento turismo del vino. Si sta superando questo effetto, per fortuna gli stranieri stanno tornando, per cui siamo fiduciosi perché invece viceversa in questi ultimi anni, a parte la parentesi terremoto, il turismo di qualità in Umbria sta crescendo molto e questo è fondamentale anche per aiutare poi nell'export. Essendo un territorio anche molto bello, è anche vocato con dei centri storici molto belli, piacevoli e tutti a portata di mano, tutti vicini, è fondamentale far sviluppare l'enoturismo e quindi far conoscere i nostri vini ma farli anche assaggiare in abbinamento con la cucina Umbra, far vedere il paesaggio unico delle vigne di Sagrantino intervallato dai bellissimi Oliveti e dai nostri centri storici in cima alle colline. Quindi l'enoturismo è importantissimo perché, ripeto, ci aiuta poi a vendere il vino perché se noi riusciamo a vendere il vino in America ma nessuno poi lo prende dallo scaffale, il vino rimane lì e si impolvera. Viceversa, se funziona il turismo, il turista che torna poi negli Stati Uniti compra questo vino per ricordarsi anche della vacanza passata in Umbria. E per uno dei vini di punta della regione, il Monte Falco Sagrantino, il mercato va bene, ma la vendemmia quest'anno è difficile. Non è una vendemmia facilissima, a primavera intanto c'è stata una gelata alla fine di aprile che qui ha colpito marginalmente ma un po' di più i vigneti di uve bianche, diciamo, quindi una gelata tardiva che ha colpito un po' tutta Europa e poi è arrivato la grande caldo e siccità che ha contraddistinto tutta la primavera e l'estate, anche l'inverno è stato molto secco per cui ci sarà un calo abbastanza consistente, direi che almeno il 40% di calo dovrebbe esserci quest'anno. E queste condizioni di stress non sono, uno pensa che sia la qualità eccezionale, ma non è così perché poi si brucia troppo l'acidità. In realtà dai primi assaggi nel bicchiere, perché siamo appena all'inizio della vendemmia, troviamo che i vini sono meglio di quanto ci aspettassero, direi una qualità media. Come associazioni di categoria adesso ci stiamo attivando per chiedere che venga riconosciuto questo stato di calamità, con interventi che possono anche non essere necessariamente fornire dei soldi, ma agevolare in qualche formula la nostra attività, perché sicuramente sarà un'annata molto difficile in cui non si fa bilancio.